allora il progetto di oggi è questo qui su quest'area devo realizzare un parcheggio e nei giorni precedenti già ho spostato la recinzione in questa maniera perché prima il il vecchio recinto proseguiva dritto da quel palo di legno a quell'altro palo lassù di legno vicino alla pianta quindi ho dovuto spostare la recinzione tenermi più in dentro e su quest'area qui adesso ci devo ricavare un parcheggio quindi devo togliere la terra al al piano della strada dove dove l'escavatore anzi anche un po più basso perché poi devo farci una massicciata e rifinirla con lo stabilizzato e poi su un tutto quanto il perimetro ci andrò ci andrò a creare una una scarpatina con la terra battuta solamente che il problema è questo qui che già ho visto che questa zona è un campo santo perché lungo lungo il greppo questo vecchio ci passano due tubi del gas che già che già ho scoperto e fortunatamente non ho rotto speriamo di non romperli ma secondo me l'andazzo non è non è quello giusto e poi da questo casottino qui partono altri due tubi che vanno in mezzo agli olivi che sicuramente daranno noia e da laggiù in fondo partono altri due tubi dell'acqua che si ricongiungono sempre lì in mezzo quindi già ho visto che è che è che è un campo santo comunque adesso incomincio piano piano senza cercare di fare danni e vediamo com'è che si evolve il lavoro i confini del parcheggio sono questi qui sono questi questi palettini qui che ho messo grigi ce n'è uno qui uno lassù e uno per ogni per ogni angolo questi qui mi fanno mi fanno da riferimento per fare lo scavo adesso intanto comincio a levare il primo strato di terra e vedo come si mette tutta quanta la faccenda e vedo come si mette tutta quanta la faccenda 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.